L'anno nuovo in corsa d'amore, di sua rostia del cuore immacolato. Spumante, fuochi d'artificio e un cuore pieno di speranza in un anno migliore. È l'atteggiamento comune con il quale, generalmente, accogliamo l'anno nuovo. Per il cristiano impegnato, specialmente se consacrato alla Madonna, c'è molto di più. Molto di più. Ci viene donato un anno nuovo e l'attesa della mezzanotte deve essere impregnata del desiderio di consacrare ogni istante dei prossimi 365 giorni alla nostra mamma celeste. Lei stessa ha in serbo molte grazie per ognuno dei suoi figli e molte altre vuole largirne per loro intercessione a favore di tanti animi che rischiano di perdersi. La Madonna attende che ci rivolgiamo a lei per domandarle grazie. Vuole che insistiamo, che la disturbiamo continuamente, come farebbe un piccolo bambino bisognoso con la sua mamma. In questo reciproco rapporto d'amore non abbiamo che da guadagnarci ed è doloroso pensare a tutti quelli che non conoscono questo segreto di vita e di santità. L'8 gennaio di quest'anno ricorrerà il 130esimo anniversario della nascita di San Massimiliano Maria Colbe. Il folle dell'immacolata ci ha insegnato come il grado d'amore che l'anima raggiunge in cielo è in proporzione alla sua corsa d'amore verso Dio su questa terra, poiché in cielo l'amore si potenzia per tutta l'eternità. Dio ricompenserà ogni atto, ogni istante speso per lui. Vale quindi la pena di non perdere tempo, neanche un microsecondo di vivere il tempo che ci è dato intensamente guardando con fiducia negli occhi la nostra mamma immacolata. San Massimiliano ci ha lasciato la testimonianza concreta della sua personale corsa d'amore verso Dio, la cui velocità è da attribuire alla sua infinita confidenza nell'immacolata. Anche quando pensiamo alle incognite future, alle possibili croci che possono sopraggiungere, perfino quelle più dolorose, il pensiero che tutto appartiene a lei e che lei è sempre vittoriosa riempie l'anima di pace e fortezza per affrontare ogni prova. E non l'ha forse dimostrato San Massimiliano, soprattutto nel campo di concentramento di Auschwitz? Offrire ogni istante della nostra vita, la morte ed eternità alla mamma del cielo, equivale ad avere la certezza della vittoria perché lei ha già vinto e vincerà sempre. Sta a noi quindi avvicinarci sempre più a lei e saper cogliere ogni opportunità per diventare sempre più suoi, poiché, come insegna San Massimiliano, quanto saremo più suoi e assomiglieremo totalmente al suo cuore immacolato, tanto più ci avvicineremo all'amore di Dio. Guardiamo allora questo nuovo anno come a un dono personale dell'immacolata. Vogliamo l'occasione per iniziare la nostra personale corsa, una corsa d'amore a beneficio nostro e dell'umanità intera, poiché ogni cristiano che vive in grazia di Dio e si santifica salva anime. Cosa fare allora nella pratica? San Massimiliano direbbe avvicinarci sempre più a lei. Tale avvicinamento dipende dal nostro saper santificare ogni istante che ci viene donato, attraverso la preghiera e la vita di grazia. Pensiamo ad esempio al beato Carlo Acutis, il quale, quando era ormai consapevole di dover morire giovane, confortava i suoi cari dicendo che non aveva paura di morire perché aveva dedicato la sua vita a cercare Dio, a santificarsi e ad amare. Ogni santo ha fatto una corsa d'amore tutta singolare e irripetibile e la mamma celeste vuole proprio questo, fare della nostra vita, breve o lunga che sia, una corsa d'amore che nell'eternità farà piovere grazie anche dal cielo. Il più bel esempio ci viene da Santa Teresa dell'Isio, patrona delle missioni che seppe trasformare ogni cosa in amore. Per far questo però, come dicevano sia San Massimiliano che il beato Carlo Acutis, è necessario saper dimenticare il proprio io ogni giorno e lasciare spazio a Dio. Santa Teresina, negli ultimi mesi di vita, ebbe l'intuizione di vivere quel versetto del Cantico dei Cantici che dice attirami e correremo. Infatti la sua corsa fu fondata proprio su questi due verbi e sulla loro reciprocità di azione. Più ci faremo attirare da Dio, più faremo del bene al prossimo. In termini colbiani potremo allora aggiungere più ci avvicineremo all'Immacolata, più collaboreremo con lei nello spandere la sua grazia materna fino ai confini della Terra. Non è forse questo un bel programma per l'anno nuovo appena iniziato? Grazie. 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 Grazie.